Secondo una stima di previsione anche se approssimativa da parte dei tecnici del comune di Ferentino, l'introito previsto dai proventi degli autovelox che sono stati sistemati dall'amministrazione comunale di Ferentino sulla superstrada Persola per l'anno 2019 dovrebbero sfiorare gli 8 milioni e 200 mila euro. Questo incasso previsto significa che le multe stanno fioccando a raffica. La polizia locale ha effettuato rilevamenti minuziosi da gennaio scorso e forse anche nei mesi precedenti ad autovelox ancora non attivi del tutto per poi fare una stima su base previsionale con un importo probabile delle inflazioni commesse dagli automobilisti che abbiano superato i 90 km orari in quel tratto della Ferentino-Sola. I soldi saranno per i partiti tra il comune di Ferentino e l'ANAS, proprietario della strada. Intanto gli automobilisti che hanno ceduto in velocità in questi mesi nel tratto stradale in questione si vedranno notificare in questi giorni le prime contravvenzioni.